Diamo molto importanza a come è esposto il prodotto per dare un'esperienza al cliente, c'è anche la varietà dei prodotti che si trovano in un negozio come il nostro, più di 35.000 prodotti e poi diamo anche molto importanza come caratteristica del nostro negozio i nostri dipendenti. Le persone che vengono nel nostro negozio vogliono normalmente fare un progetto e se si aiuta questi clienti a realizzare questo progetto al miglior modo e al miglior prezzo possibile ovviamente poi vengono a ricomprare da te. Il primo anno è stato molto vicino, anzi un po' di più di quello che abbiamo calcolato e anche il secondo fino ad oggi con 30% in più di aumento del scorso anno. Ovviamente il libero servizio si aiuta, si aiuta quel cliente che già sa quello che vuole prendere, ha già preso in passato, vuole fare in fretta e ha preso, pagato e andato via. Ma il libero servizio da solo non si può funzionare, si dovrà investire molto dai dipendenti che hai per continuare a aumentare i numeri. Alcuni ieri abbiamo preso l'idea di queste grandi distribuzioni e abbiamo fatto a modo nostro e che applica al nostro mercato. Tipo i prezzi grandi, il negozio che sembra grande, il display belli, i data sheets e tutte queste cose che aiutano i clienti a comprare e che sono già fatti da queste grandi distribuzioni e che hanno successo. Poi nell'altro lato abbiamo cambiato un po' di cose quando si parla sui professionali. Abbiamo fatto un'area dedicata solo a questi professionali con una persona che è incaricato solo di questo e che vede che questi clienti non perdono tempo, prendono il materiale più giusto per loro con il prezzo più giusto per il progetto che stanno lavorando. Noi cambiamo la parte superiore, il primo piano, dipende dal mercato che c'è in quel momento. E si nota sempre alcuni clienti che vengono ogni, non so, due o tre settimane nel nostro negozio solo per vedere come abbiamo cambiato il primo piano. I prodotti più apprezzati dai nostri clienti e più richiesti sono la parte del legno, la parte delle luce e anche la parte della pittura. Anche poi il mercato estivo e il mercato natalizio sono anche quelli due mercati che ci danno anche abbastanza vendita e sono richiesti a volumi grandi dai nostri clienti. Grazie.